Un arresto, due denunce e una segnalazione. Questo è il bilancio di una nuova operazione di controllo del territorio a Giarre da parte dei carabinieri. Giro di prostituzione scoperto da Ciriale. Si terrà il 9 dicembre l'udienza preliminare, 5 gli imputati, nessuna accese, le puntualizzazioni dell'avvocato penalista Enzo Di Mauro. Ieri sera le comunità di Lavinaio e Santa Maria La Stelle, in occasione della giornata nazionale della pace, hanno effettuato una marcia conclusa dinanzi al campo sportivo di Lavinaio. Ben trovati dalla redazione di Reporter, questi titoli in primo piano. Tra gli altri parleremo anche del progetto esecutivo approvato ad A Ciriale insieme alle modalità di gara per la realizzazione di un impianto semaforico per non vedenti in Corso Italia. Parleremo anche di alcune segnalazioni giunte in redazione dalla frazione accese di Pennisi, da quella sant'antonese di Lavinaio. E poi, restando ad A Ciriale, parleremo anche delle tante iniziative in agenda del consigliere comunale, consigliere delegato Sabrina Renna, delegato alle tematiche sociali, iniziative già a partire da questo mese. Ma come sentito dai titoli, partiamo dalla cronaca, perché c'è una nuova operazione di controllo del territorio a Giarre, portata avanti dai carabinieri. Un arresto, due denunce e una segnalazione. Il bilancio finale. Sentiamo. Un arresto, due denunce ed una segnalazione. E questo è il bilancio dell'operazione di controllo del territorio dei carabinieri di Giarre, coadiuvati dai colleghi del battaglione Sicilia, nell'ambito del piano denominato Modello Trinacria. L'arrestato è un 19enne di riposto denunciato dall'ex ragazza, che il giovane, non rassegnandosi alla fine della loro relazione, perseguitava da mesi, minacciandola e molestandola, provocando in lei uno stato d'ansia e di paura. I due denunciati, invece, sono il primo di Fiumefreddo, un minorenne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo essere stato fermato, infatti, i militari hanno proseguito con una perquisizione domiciliare, rinvenendo, occultati in un'anta dell'armadio nella sua stanza, 22 dosi di marijuana, per un peso complessivo di 21 grammi. Il secondo denunciato, poi, è un quarantenne di mascali per porto di oggetti atti ad offendere. L'uomo, già gravato da precedenti penali, durante una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, con lama da ben 22 centimetri, prontamente sequestrato. Infine, un giovane di Calatabbiano è stato segnalato alla prefettura, dopo essere stato trovato in possesso di piccole quantità di stupefacenti. Durante il servizio sono state controllate 95 persone, 60 veicoli di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo. Sono state eseguite 8 perquisizioni domiciliari ed elevate, 4 sanzioni al codice della strada per un valore complessivo di 1.200 euro. Torniamo adesso a parlare del giro di prostituzione scoperto qualche giorno dietro ad Acireale. Si terrà il prossimo 9 dicembre l'udienza preliminare, 5 sono gli imputati, ma nessuna accese. Sentiamo le puntualizzazioni dell'avvocato penalista Enzo Di Mauro. Si svolgerà il prossimo 9 dicembre l'udienza preliminare nei confronti delle persone coinvolte nel presunto giro di prostituzione, venuto alla luce lo scorso mese di settembre. Nella vicenda processuale, gli imputati su cui pende la richiesta di rinvio a giudizio sono solamente 5, tra questi una donna, ma nessuno è accese, nemmeno la donna che a quanto pare sarebbe di Aci Sant'Antonio e non è imputata perché esercitava la professione, ma perché metteva a disposizione la propria abitazione. Per loro le accuse sono di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, mentre in un caso, uno dei 5, tra i capi di imputazione, si ritrova anche lo stalking e la violenza sessuale. Parliamo dell'agente di commercio della Sicilia occidentale che ha fatto partire l'inchiesta. Oggi intanto, a distanza di poche settimane, l'avvocato Enzo Di Mauro, volto già noto del piccolo schermo essendo il nostro opinionista nel programma di attualità Città-Città, ha sentito la necessità di puntualizzare alcuni passaggi della vicenda, sottolineando come nessuno degli imputati, una donna e quattro uomini, è residente ad Aci Reale. E questo, nonostante in città sia scattata la gara per conoscere le identità di chi vendeva il proprio corpo, che semmai, e si tratta di una sola donna abitante ad Aci Reale, nel procedimento in corso è parte l'ESA in quanto appunto oggetto di stalking e tentata violenza sessuale. L'apprezzato penalista, impegnato nel procedimento penale che si sta instaurando, offre dunque un contributo importante sull'argomento che da settimane ormai domina, la cronaca cittadina. Conoscendo fatti, nomi e circostanze per ragioni professionali, scrive Di Mauro, già da qualche giorno avevo pensato di scrivere un commento alle tante nefandezze che mi è toccato leggere per cercare di porre uno stop alla vergognosa caccia al nome che si è scatenata in città e che ha coinvolto ingiustamente diverse donne che nulla hanno a che fare con la vicenda e men che meno con i fatti di prostituzione di cui tanto si parla. Nella vicenda processuale in questione, puntualizza dunque Di Mauro, è coinvolta soltanto una donna accese, nella veste peraltro di persona offesa. Tra le persone non imputate, citate negli atti d'indagine, non vi sono imbiegate pubbliche del comune di Acireale, non vi sono imbiegate pubbliche mogli di noti professionisti o medici accesi, non vi sono vigili urbani di Acireale, non vi sono signore titolari di negozi di abbigliamento accesi, non vi sono parrucchiere o estetiste titolari di esercizio a posto fisso. Spero in tal modo, conclude Di Mauro, che si possa mettere un punto a questo vergognoso gossip sulla pelle di donne, spesso anche mogli e madri, colpite ingiustamente dalla calunnia. A pochi mesi di distanza dalla violenta aggressione a danno di due agenti di polizia penitenziaria, verificatesi presso il carcere minorile di Acireale, un nuovo drammatico episodio si registra presso lo stesso istituto, dove un poliziotto ha tratto in salvo un detenuto in procinto di suicidarsi. Lo sottolinea la Will Pubblica Amministrazione Polizia Penitenziaria, sebbene i poliziotti penitenziari lavorino con grande dedizione, ha sottolineato il segretario nazionale Armando Algozzino, la carenza di organico rimane un problema drammatico, destinato peraltro ad aggravarsi per via degli ulteriori tagli preannunciati dal ministro Madia. Cambiamo argomento, passo in avanti per la realizzazione dell'impianto semaforico per non vedenti da installare ad Acireale nel centralissimo Corso Italia, si va così verso l'appalto dei lavori. Sentiamo. Tutto pronta da Acireale per la realizzazione dell'attraversamento semaforico adeguata alle esigenze dei non vedenti che sarà realizzato nel centrale Corso Italia all'altezza del Palavolcan. Il Comune infatti ha adottato la procedura negoziata con invite ad almeno 10 imprese di fiducia del territorio, fra le quali sarà così individuata quella a cui affidare l'incarico. Oltre a questo adempimento, è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'architetto Anna Maria Liotta che prevede una spesa complessiva di 42.000 euro. Rispetto a tal importo, 30.000 euro sono stati già concessi dal Ministero dei Trasporti, mentre il Comune Cese cofinanzierà l'opera attraverso la somma di 12.900 euro. L'impianto semaforico sorgerà su entrambi i lati del Corso Italia e sarà costituito da due differenti elementi di natura tecnica, con il tutto supportato da un idoneo attraversamento pedonale, atto ad indicare appunto questo tracciato protetto destinato ai pedoni in genere. Una prima fase sarà costituita da un normale pulsante per la richiesta di attivazione del verde, quest'ultimo connesso ad un segnalatore acustico idoneo ad indicare al non vedente l'accettazione della richiesta formulata. La seconda fase, invece, sarà costituita dalla emissione di un differente segnale sonoro, di via libera, nonché un sensore di misura del rumore ambientale. Il dispositivo emette 60 impulsi in corrispondenza della luce verde semaforica, che diventano poi 120 impulsi nel momento in cui si attiva il giallo. A Daci Sant'Antonio invece volgono al termine i lavori relativi al parcheggio di via Roma. Avviata infatti oggi la pavimentazione che permetterà a breve la consegna dell'opera finita. Sentiamo il servizio. Proseguono i lavori nel parcheggio di via Roma a Daci Sant'Antonio. Avviata oggi la pavimentazione che permetterà di consegnare l'opera finita nell'arco di una settimana al massimo. Seguiranno poi i lavori di ampliamento del marciapiedi che consentiranno finalmente ai cittadini santantonesi di camminare dignitosamente lungo una delle vie principali del paese. Fino ad ora questa strada non è stata pienamente fruibile. Non è stato permesso infatti il passaggio di carrozzine o passeggini. E anche la possibilità di parcheggio per le automobili è stata assai limitata. Si ricorderà che all'inizio di quest'anno è stato recepito un finanziamento regionale di 95.000 euro che il Comune ha integrato con una quota di compartecipazione di 21.000 euro per la realizzazione del parcheggio appunto e della migliore vivibilità della via Roma. I lavori però, avviati a fine giugno con grande entusiasmo, sono stati condotti tra le polemiche dei cittadini che si sono sentiti beffeggiati dalla promessa fatta dal primo cittadino, Santo Caruso, e poi non mantenuta, di consegne dei lavori entro 45 giorni. Adesso di giorni è evidente che ne siano trascorsi molti di più, ma i lavori volgono realmente al termine. Sono state incontrate difficoltà rispetto al progetto approvato, spiega il sindaco Caruso. È stato necessario infatti applicare delle varianti, ma abbiamo cercato di fare tutto in tempi celeri, conclude. Adesso non ci resta che aspettare e augurarci che nel più breve tempo possibile il tanto atteso parcheggio possa essere realmente fruibili dai cittadini santantonesi. Sindaco di ACI Sant'Antonio è chiamato in causa anche per un'altra situazione. Come riportato ieri, infatti, ad ACI Sant'Antonio è di nuovo emergenza acqua. Le segnalazioni dei residenti diventano sempre più frequenti e sempre più critiche nei confronti dell'amministrazione comunale, è accusata di restare completamente in silenzio sulla problematica in oggetto. Abbiamo sentito in merito appunto il primo cittadino, Santo Caruso, che ha focalizzato il suo discorso principalmente sul corretto uso dei canali. Ha lamentato infatti di non aver ricevuto alcuna segnalazione ufficiale di disservizio. Tutte le problematiche sembrano seguire le vie mediatiche, in particolare quelle dei social network. Il sindaco a tal proposito invita la cittadinanza di incontrarlo personalmente anche fuori dai giorni di ricevimento stabiliti, dimostrando tutta la sua disponibilità all'ascolto e al confronto. E poi, sempre Caruso, sottolinea ancora che l'uso che può fare dei social network è meramente informativo. Si scusa pertanto di non rispondere apertamente alle tante sollecitazioni che gli vengono sottoposte. In merito al problema acqua, invece, dichiara di essere in scontro aperto con l'ACOSET, che ormai tende a non comunicare più all'amministrazione le date in cui sono previsti dei disservizi. Nonostante le cinque denunce ricevute dal comune di ACI Sant'Antonio, l'ente erogatore dell'acqua sembra non cambiare atteggiamento. I cittadini, infatti, sono invitati a fare le dovute segnalazioni, in primis all'ACOSET, secondariamente all'istituzione comunale, e infine ai carabinieri su tutti i problemi che l'ente sta provocando loro, dall'incostanza del servizio idrico all'eccessivo aumento dei canoni. Un appuntamento per domani ad ACI Catena alle 11.30 nella sala riunioni della caserma dei vigili urbani. Si terrà la conferenza stampa per illustrare il resoconto dell'attività operativa effettuata dalla Polizia Locale nelle ultime settimane. L'occasione sarà utile per presentare le modifiche tecnologiche che il corpo sta adottando e che presto verranno utilizzate per limitare e circoscrivere alcuni dei fenomeni negativi che interessano le strade comunali. È tempo di fermarsi. Breve pausa, poi di nuovo qui per la seconda parte di Reporter. Quando scegli un paio di occhiali, non ti accontentare. Cerca quella qualità visiva che va oltre il semplice guardare e scoprirai che c'è più vita in quello che vedi. Chiedi al tuo ottico lenti Zeiss. Ottica Grasso, centro ottico Zeiss, per il massimo comfort dei vostri occhi. Ad ACI Reale, nuovo ampio concept store, in corso Italia 122. Ad ACI Catena, in via matrice 34. Ottica Grasso, 34 anni d'ottica. Il Centro Analisi Saem del Dottor Antonino Di Carlo ora è nei nuovi accoglienti locali di Via Marchese di San Giuliano 21, ACI Reale, vicino la Biblioteca Zelantea. Centro Analisi Saem del Dottor Antonino Di Carlo. Apertura Laboratorio Prelievi tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Centro Analisi Saem, Via Marchese di San Giuliano 21, ACI Reale, Pirinfo 095 60 48 83. Questa è bellissima, come vede di chiangere, ma io volevo qualcosa di un po' più piccolino. Un po' più piccolino, mi posso dare una smart. Una smart più piccolina. Una piccola della smart la possiamo costruire, e siamo in grado anche di farlo. Per accontentare il cliente. Per accontentare il cliente. Unicar, che ti accontenta sempre il cliente. Unicar, convenienza e garanzia. Signor Carcione, è stato un piacere riconoscerla. Unicar, il piacere di guidare. Teatro Stabile 10 Reale, una nuova stagione di Prosa in Musica. Tanti straordinari artisti per emozioni indimenticabili. Sister Act con Belia Martin, Carlo Bucci Rosso, Ugo Pagliai, Enrico Guarneri, Pippo Pattavina, Gabriel Garco, Giovanna Crescuolo, Pino Strabioli, Rosalia Porcaro, Edoardo Guarnera. Abbonati anche tu alle emozioni. Apriamo la seconda parte di Reporter parlando di alcune segnalazioni giunte in redazione dalla frazione accese di Pennisi e da quella sant'antonese di Lavinaio. Vediamo. Ancora segnalazioni in redazione. Registriamo giornalmente nel nostro giornale alcune segnalazioni da parte dei cittadini che riguardano alcuni disservizi nel territorio. Nella zona di Pennisi e precisamente in via Caccamo dal civico numero 25 in poi, cinque lampade sono fuori uso lasciando la strada quasi nella totalità del buio. Tale disservizio si è presentato da circa un anno e mezzo a questa parte. A Natale 2015 il vice sindaco Nandardita ha preseduto ad un controllo della pubblica illuminazione solo ed esclusivamente della zona piazza e chiesa di Pennisi il quale, messo a conoscenza del problema di via Caccamo ha risposto prontamente che avrebbe informato l'ufficio preposto allo scopo. Trascorsi otto mesi senza alcun risultato in data 31 agosto 2016 il nostro telespettatore ha contattato nuovamente l'ufficio della pubblica illuminazione esponendo il problema. Giorno 30 settembre casualmente in via Torretta e precisamente vicino al giardino della Magnolia il nostro telespettatore ha notato il mezzo di riparazione della pubblica illuminazione con quattro operai alla domanda posta ad essi se avessero provveduto anche alla sostituzione delle lampade di via Caccamo la loro risposta è stata che non avevano ricevuto nessuna segnalazione riguardante la via in questione. Ad oggi ancora nessun intervento è stato effettuato. Ancora un'altra segnalazione è arrivata stavolta dalla frazione di Lavinaio di Aci Sant'Antonio nella via Angelo Cristaudo l'asfalto da parecchio tempo presenta delle buche che potrebbero causare degli incidenti soprattutto ai motociclisti. Cambiamo argomento e ci spostiamo a Giarre dove si è svolta ieri la cerimonia per il cambio delle bandiere posizionate sul balcone del palazzo comunale di via Callipoli. Dopo la benedizione delle bandiere e la lettura del cantico delle creature da parte degli alunni dell'Istituto Sacro Cuore e del secondo istituto comprensivo una rappresentanza di alunni insieme al sindaco ha posizionato sul balcone del palazzo di città i tre vessilli che rappresentano la nostra regione la nostra nazione e l'Unione Europea mentre il coro del primo istituto comprensivo ha cantato i relativi inni accompagnati dall'orchestra Maccherione del terzo istituto comprensivo. Con tale manifestazione ha affermato il sindaco Danna intendiamo esprimere il desiderio di ritrovare un senso di unità e di appartenenza e fare in modo di avvicinare i cittadini e alle istituzioni attraverso il palazzo di città. Torniamo ad Aciriale per parlare di politiche sociali sono tante infatti le iniziative in agenda del consigliere comunale Sabrina Renna delegato appunto alle tematiche sociali vediamo e già a lavoro Sabrina Renna consigliere comunale di Aciriale neoconsigliere delegato dal sindaco Roberto Barbagallo alle tematiche di carattere sociale dalla ludopatia alla tossicodipendenza dall'inclusione sociale di quanti versano in condizioni di disagio al recupero sociale dei detenuti argomenti sensibili e cari alla consigliera Renna fin dai primi giorni del suo mandato portando avanti iniziative di sensibilizzazione e promuovendo anche esperienze partecipative tanto insomma è stato fatto ma tanto ancora c'è da fare e le idee che diventeranno presto nuove iniziative non mancano è un ruolo che impegna che gratifica tanto e a tal proposito ci stiamo già attivando per portare avanti innumerevoli iniziative ottobre a tal proposito è il mese della prevenzione del tumore al seno e ci stiamo occupando di mettere in piedi una campagna di sensibilizzazione per far conoscere ed arginare il fenomeno del tumore come dicevo del tumore al seno poi ci occuperemo sicuramente degli orti sociali e lo faremo a tal proposito con una realtà presente nel territorio che è l'IPAB Asicristore che metterà a disposizione dei migranti extracomunitari minori che alloggiano presso la stessa comunità un terreno appunto per poter realizzare gli orti sociali e per iniziare ad inserire i ragazzi nel mondo del lavoro se così si può definire e creare diciamo delle attività alternative a tutte quelle che possono essere le devianze presenti nel territorio Sono contenta che la sinergia che c'è sempre stata tra il mio assessorato e il consigliere Renna si sia tradotta in un atto istituzionale che rinforzerà la collaborazione nelle numerose progettualità che stiamo portando avanti ha commentato l'assessore alle politiche sociali a Dele Danna con la quale la consigliera Renna lavora a stretto contatto per il raggiungimento degli obiettivi preposti è un percorso che è iniziato nel settembre del 2014 che ha visto me e l'assessore Danna lavorare in piena sinergia abbiamo ottenuto degli ottimi risultati e sicuramente continueremo a perseguirne degli altri fino alla fine del nostro mandato ieri sera si è svolta la quarta fiaccolata per la pace organizzata dall'associazione giovani di Santa Maria la stella un'iniziativa che coinvolge le comunità di Labinaio e appunto di Santa Maria la stella vediamo la terra è un solo paese e l'umanità i suoi cittadini è stato questo lo slogan della fiaccolata per la pace che ha riunito ieri sera le frazioni sant'antonesi di Santa Maria la stella e Labinaio un percorso parallelo per il raggiungimento di un obiettivo comune marcia che si fa metafora della necessità di cooperare in favore dello sviluppo del territorio vedendo nella diversità un'opportunità di crescita e non una barriera giunta al suo quarto anno la marcia della pace organizzata dall'associazione giovane di Santa Maria della stella con il patrocinio del comune di Aci Sant'Antonio ha visto protagonisti gli studenti dell'istituto comprensivo Fabrizio De Andrè che hanno dato la loro testimonianza di accoglienza e di solidarietà lo scorso anno infatti ha spiegato il dirigente scolastico professoressa Venere Eleonora Russo i bambini hanno realizzato il progetto pace a chilometro zero che ha permesso loro di relazionarsi con gli ospiti del centro Sprar di Aci Sant'Antonio i pregiudizi iniziali a proseguito sono stati facilmente abbattuti dallo spirito di amorevole scambio culturale che si è innescato il progetto è culminato poi nella partecipazione alla marcia per la pace di Assisi dello scorso anno ogni anno l'associazione sceglie un tema da trattare con la comunità quest'anno i riflettori sono stati puntati sul concetto di integrazione non solo nell'accoglienza dei migranti ma nell'accoglienza di chi ha più difficoltà ad essere accettato in una comunità che vive di stereotipi tutta l'attenzione è stata quindi rivolta ai giovanissimi adolescenti che vivono in contesti familiari non sereni e che già troppo piccoli hanno dovuto conoscere la durezza della vita sensibili al problema evidenziato sono stati naturalmente i sacerdoti delle parrocchie delle due frazioni Don Salvatore Coco per Santa Maria della Stella e Don Giuseppe Arcidiagono per Lavinaio entrambi hanno sottolineato la necessità che all'interno della comunità si instauri il dialogo la sincerità delle parole scevra dal colore politico dalla professione religiosa da qualsiasi altra forma di differenza razziale o culturale anche il primo cittadino Santo Caruso ha intervenuto riportando la sua esperienza di confronto con gli altri comuni europei in tema di migrazione un momento importante di riflessione insomma che fa di AC Sant'Antonio scrigno di valori etici e morali l'associazione giovani di Santa Maria della Stella ringraziando tutti gli intervenuti dei cittadini ai volontari ai rappresentanti delle istituzioni scolastiche e amministrative ha concluso la manifestazione dando l'appuntamento al 25 novembre in occasione della giornata mondiale della donna e appuntamento a venerdì prossimo invece alle 10 nel salone del palazzo Vescovile di Aciriane dove si terrà una conferenza stampa dove sarà illustrata la missione giovani che si terrà appunto da venerdì 7 ottobre al 15 ottobre e si svolgerà nella diocesi di Aciriane missione giovani animata da 60 missionari che verranno da Assisi avrà come poli operativi le città di Aciriale e Giarre luoghi su cui insisteranno le diverse catechesi d'attività che si svolgeranno nelle scuole e nei principali centri di aggregazione giovanili presenti sul territorio questo pomeriggio invece una breve notizia di calcio si svolgono le gare di ritorno del primo turno di Coppa Sicilia riservate alle squadre di prima categoria in campo alle 17 al comunale di Aciriale Libertas Acirial e Acicatena si parte dal 3 a 0 maturato nella gara d'andata in favore degli Accesi e poi alle 19.30 Real Picanello Lineri Mister Bianco e poi alle 15.30 Mister Bianco tutta San Gregorio e atletico Fiumefreddo Ciclope Bronte una delle gare più aperte che ha visto i brontesi in vantaggio per 3 a 2 nella gara di andata siamo adesso in chiusura andiamo a scoprire le previsioni meteo per domani cielo coperto con pioggia al mattino nubi sparsi e schiarite nel pomeriggio venti moderati temperature stazionarie comprese tra 19 e 24 gradi mare mosso per oggi è tutto grazie per essere stati con noi vi ricordo che è possibile seguirci anche nella nostra pagina facebook ufficiale e tenespresso channel trattino tg reporter per rivedere in qualsiasi momento tutti i servizi e tutte le edizioni in archivio del nostro tg che torna domani puntuale come sempre alle 13 e 40 arrivederci per rivedere in qualsiasi momento per rivedere in qualsiasi momento per rivedere in qualsiasi momento